La Sardegna è un posto speciale per i motori. Da quasi 20 anni la tappa italiana del mondiale di rally si corre non a caso sulla terra dell'isola. È stata una grande festa di fine stagione, la cronoscalata di Tandalò, in provincia di Sassari, che contava ai nastri di partenza ben 123 iscritti, tra cui il pluricampione internazionale biellese d'adozione Gigi Galli. Un altro titolo si è aggiunto però questo fine settimana nel palmarès di Biella Corse. Il biellese Davide Negri, chiudendo il primo posto di categoria, si è infatti laureato campione italiano velocità su terra 2022. Un titolo che va ad aggiungersi ai tantissimi già conquistati da Negri in vari ambiti, dai fuoristrada alle gare su ghiaccio, dai rally moderni alle gare per auto storiche. In Sardegna il pilota di Biella Corse, con il suo proto OSEC 3500, ha vinto la categoria Super Buggy e si è piazzato al terzo posto assoluto, mentre domenica ha chiuso, al sesto, la particolarissima prova del re di Tandalò. La cronoscalata su terra, spiega Rudy Briani, coorganizzatore dell'evento, è l'unica prova italiana in salita su fondo sterrato, dove si sfidano i migliori piloti di tutte le tipologie di auto, da rally 4x4 e buggy. La gara si è corsa sulla strada sterrata, larga e divertente, che va da Buduzò fino al parco eolico di Tandalò. Tutti i vincitori delle diverse categorie si sono sfidati nel cosiddetto mancione finale, una salita secca al termine della quale, a chi ha realizzato il miglior tempo assoluto, è stato assegnato il trofeo re di Tandalò. Va ricordato che all'evento ha preso parte, sempre con le insegne di Biella Corse, anche il giovane Alessandro Negri, che, su subaro impresa prototipo, in passato utilizzata da Papa Davide, ha chiuso primo di gruppo 2-Tax e ottavo nella classifica assoluta della gara. Con questo risultato, Alessandro ha chiuso quarto il campionato italiano velocità su terra. A sottolineare il successo dell'edizione 2022, anche l'affetto internazionale verso l'evento, con ben 13 concorrenti esteri rappresentanti di 8 nazioni, Svizzera, Olanda, Irlanda, Belgio, Francia, Spagna, Slovacchia e San Marino. La gara è dedicata a Giuseppe Marroni, ma da quest'anno anche a colui che è stato una delle colonne portanti della cronoscalata, Nicola Imperio, un grande navigatore che ha combattuto e vinto centinaia di sfide sportive, ma che ha purtroppo perso la battaglia con il Covid. Al via in Sardegna, anche due equipaggi biellesi portacolori della scuderia Rally & Co. Alberto Gazzetta, questa volta coadiuvato dal figlio Paolo sulla consueta Ford Fiesta, mentre su Suzuki Vitara Cosworth erano presenti Paolo Magagnato e Sergio Callegari. Per i Gazzetta, ottime le prime quattro manche, con un 44esimo posto nella seconda prova. Un problema agli pneumatici non ha però consentito al duo biellese di partecipare all'ultima salita. Ottimo risultato, con una condotta di gara molto regolare per Magagnato e Callegari, giunti al traguardo 67esimi nonché secondi di classe.